Sì, me la posso salvare, mi ammetti che la prima volta ti sei collegato, non ti consiglio la regola, in quel caso io li faccio stampare quello là, mi faccio memorizzare quello, però se la vostra vorrei metterlo, non posso stampare, non posso stampare. ... Perchè? Eh, l'ho chiamata. Ma stai, no, devi prendere i trevis. Su che trevis? Mi prendo il mio amore, c'è già. No, voglio, abbiamo chiesto. Vai, vai, allora perché è il mio amore.